Quello che succederà fa poco è che il sindaco darà un omaggio tangibile a Garibaldi che è riuscito a unire l'Italia perché voleva farci una sola mozione, non ci voleva dividere e questo è quello che sia fondamentale. Poi noi siciliani sentiamo molto questo senso di appartenenza alla terra e anche alla patria e credo che questo gesto abbia un senso, se siamo qua siamo qua proprio per questo. Noi siamo venuti a mischiare le terre di due paesi terremotati, quest'anno il centenario del terremoto del 1908 a Messina e il quarantesimo del terremoto della zona del Belice ed eravamo qua. Il sindaco ieri sera ci ha invitato a partecipare e noi ci abbiamo creduto e siamo venuti per questo.